Grazie a tutti. Si chiama libertà. Ma sono qui anche per un'altra ragione, perché in questo mondo appare che i diritti civili e il lavoro siano due cose che non vanno mai insieme. Invece bisognerebbe sempre ricordarsi che il grande tema dei diritti sul lavoro è esattamente un tema di libertà, esattamente come non sono i diritti civili. E perché quei diritti siano esigibili ci sono tante persone che lavorano e che lavorano in condizioni difficili quando c'è la discriminazione o che non riescono a lavorare, come quando bisognerebbe applicare la legge 194 perché con l'obiezione di coscienza si parla le coscienze ma si parla soprattutto un'organizzazione del lavoro che impedisce la libertà dei medici di decidere se vogliono farlo o se non vogliono farlo. E allora la ragione per cui sono qui è perché io vorrei che si potesse in questo paese lavorare in libertà, con riconoscimento delle libertà e se si lavorasse in libertà anche i diritti civili avrebbero un passo avanti significativo. Buon pomeriggio a tutti.